oh aspetta 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 portalo portalo non ci credo si qua portalo qua portalo qua proviamo oh aspetta 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 portalo portalo non ci credo si può portalo qua portalo qua sì sì aspetta 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 è piccolo eccolo bello bello è andato è andato oh tom ha dato ce l'ho no no va bene guarda che ce l'ho si è piccolissimo si ce l'ho bello porca troia a bello come lo come lo porto arriva questo no ma sai che cos'è e che mi sono fermato non è senso mi sono fermato nel recupero gli ho dato il tempo perché ah sì no vabbè ma guarda che si è messo da quell'attimo che gli ho dato perché se no non si viene poi gli scogli vanno gli scogli bello 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 si è più o meno quella grandezza la o o se se bello bello cazzo 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 allora procede si va e vabbè scivolate andate 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 si è andato giù e l'ho visto che standa giù si si sì l'ho visto l'ho visto eccolo la voglio ridere arrivano con le piccole inizialmente ma poi crescono e con i grandi sviluppi si arriva in realtà si è bello calmato è stato quel momentino la in cui è andato vabbè è l'ora della cena devono mangiare quello d'ora ok vabbè ragazzi il video penso termina qui no dico che il video termina qui semplice vuoi salutare no no ragazzi il video termina qui lecce da 25 oh e lo scoglio no ragazzi veramente il video termina qui ci vediamo al prossimo